E adesso, e adesso la chiudiamo, la chiudiamo, la chiudiamo facendo una cosa che facciamo quasi a tutti i concerti, tranne quelli della chiesa lì e vediamo, ogni occhiamo il demonio questa sera, possiamo farlo? Lo facciamo? Lo facciamo! No! Is this the wedding? Is this the wedding? Is this the wedding? Is this the wedding? Grazie per la visione 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 Grazie per la visione